Ben trovati da Tg della mobilità, proseguono in città le manifestazioni per la pace in Ucraina, questa mattina dalle 12 appuntamento a piazza Vittorio Emanuele all'Esquilino promosso dalla comunità di Sant'Egidio, di vieti di sosta tra via dello Statute e via Napoleone III, sette linee di bus e tram saranno deviate. Domani pomeriggio doppia manifestazione a piazza della Repubblica e a piazza di Porta San Giovanni, con la chiusura delle strade sono interessate a limitazioni e deviazioni, 26 linee di bus, manifestazione anche domenica pomeriggio dalle 14 alle 18 a piazza della Repubblica e piazza Madonna di Roreto, in questo caso deviazioni e limitazioni per 30 linee di bus, dettagli sul sito romamobilita.it